... orezzuno... chi vuoi? come sei bapà? non è vero? è vero che tu puoi? non è vero? tu sei o fai? Mammie, mi racconta una cosa. Thi messa e la mano qui era così se nel l vowel Ve urllare i voi non gli accordi ma mia Uh oh perde parla Mamma piga ero Non ce stanno telling a다고 Una puesta Cosa fa una ioi do'essari Ma che estos ui Per il matrimese Quindi aveure il blackoutor Tore pesare Per andare La casca In the oldES che femine dobbiamo il mio occhio Ciao Ma Letra di provando il suo rumore. Ma lemeal della tua prima e la prima volta. Si pensi che il risultante sia senza ingötti alla pristandida. Il risultato finita dalla tua prima volta. Come si è venuta dalla trelle? Ma propria pelle chiamatevi ai prendere le catsos? Ma senti ma come si provano di kettinare le persone che ai benedissimi? Non, sei tu sei una ticciote! Perché tutte le n spouse di tenere? In modo che se mi davo capire una gente, mi sono diventata un acquistante, grazie a tutti nonna non c'è un po' di genere mi mi nemmo mi nemmo ah mamma e non c'è normal gold 5-8% making charges e non c'è solo 3% GST e che digital gold si è safe vault mi sicuro raffa quindi non c'è sicuro che non c'è THIS è vero. Adesso le vostre app store downloadate, la sua account è stata open, allora ti aspetto a questo. Mi investo in questo, ma non farai mai, il rio di solito, il rio non farai, tu dovrai investire queste cose? Una volta mi 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 piacere? Non è già un po' così. Ti mi 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 mi. Edio è il precedente. NET, NAMASTE MADAM. PLEASE HAVE A SEAT. Perchè? Quali è il nome? Shanta Devi Pochle. Shanta Devi Bhosle. Pochle. Il tuo nome è Pochle? Un po' dedicato qualcosa di lavoro. Perché ti vuoi questo lavoro? Ma che cosa deve fare? La cosa è una opportunità di lavoro? No, non so, tutti i lavoro di lavoro. Ma cosa è una cosa? Pagare. Perché te sono stata fatta dalla tua ultima lavoro? Ma che cosa faccio? Perché erano qui? Mi ha dato un po' di un bel bel e riporto, Si ho messo il suo lavoro, mi ha lasciato il lavoro. Cioè, ti ho messo il tuo cuore? Non, non. Mi ho messo il suo mangal sutra, quindi mi ha lasciato il mio cuore. Quindi ho messo il suo affare? Non, non. Mi ha detto che il suo mangal sutra, che il suo mangal sutra, quindi ho messo. Non, non. Ma cosa fare qui? Adesso ho messo un testo, un testo. Se tu hai messo il testo, vi faccio il prossimo question, ok? Ok, madame. Ok, questo è quanto? 3. 4. E quanto? 8. Ok, ti ho messo il tuo tempo, ti ho messo il tuo tempo, ti ho messo il tuo tempo. Shit, ti ho messo il tuo tempo? Io ho messo l'interviewer oggi. Ok, what are your strengths? Mi ho messo un testo. Feel. Why? Poi? Poi, non. Poi? Poi? Poi! 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 Aso! Apre! Poi! Ate! Ate! Poi! Poi! Cosa o Dunque non è deciso ci hai Ma mi ha faccio No tu non sei che hai Non mi cuse no Mi ragu because No ci sei un'acquinto No non è un'acquinto Cutsi 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 Nasi, stai aando con la tua mia. Non ci fanno spesso angi. Ma come ui come mi margira a nanni che papa di roba? Un'altro, cosa stai? C'è lo che ti ti faccio? N te faccio il 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 l'ipso? N'è il l'ilbo. Il oltimo in un l'ilbo, il è l'ilbo. Quindi hai ma d'acquanto, tu hai pimenti non si tu fai il 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 giallo. Ma parla dell'ilbo a te faccio il giallo. Mi ho conosciuto un perlacco di nipotism. Non tu hai raggiata? Ma andai bittorne domani a primi oltre un giorno. Quanto tu hai. Vai vai, bè lei. Oh no, Vanita, suagraat per oggi raggiungo il Red Bull, abbiamo mangli coffee e parlavano di tutto il giorno. Ah, senti. Ok, come, il mio amore è venuto. Il mood è vero che ti ringrazio, ok? Ok, bye. Mi ha chiamato, mi ha chiamato a casa, mi ha chiamato. C'è chi ha chiamato così a mattina? Si ha chiamato il sangue. Si è successo. Si ha chiamato il sangue di sangue, quindi il sangue di sangue. Oh, mi ha chiamato il sangue? Non mi ha problema, non mi ha problema. Quando mi ha chiamato a casa, mi ha chiamato, mi ha chiamato il sangue. e ho detto che appare il mio caso di questo dove si tornando sul mio quindi mi tornando su la mia se tornando così se andiamo fuori come nella scama del news dunque per me si tornando ma donna non cuore la mia mia volta la vita non c'è una volta la mia corsa è una corsa si trodare corsa i amici che i amici che le persone pensano che i chanze Aro baskar maté baskar D'usero'o qui nannat Apponi bhaabioco Hire, zavarat Ador piaar D'etitih Tumarri bhenne Sardard d'or corona Ke la ava Mujil diya i kia hai D'eckho Usse tabi nai maalum tha Que usse covid hai Usse to yè bhi nai maalum Que vò bevaquuf è Usse mei meri galti è Kya? Orbevaquufi Se yad aya Usse hamarri bèti Kamla Ke bàare me Kitnì burai ki tì bhaar Usse kaha Maa ki hamarri bèti Kamla Nne usse ki bèti Diya ki zindagi Burbaad kar di To Kamla Nne unki zindagi Burbaad to kiye Kamla Nne diya Ko diwali Puri tarah Jala Diya Tha Viciari Sarse Tkli ho Ghe Abhi bhi maulay Se jati Viciare Bacche Usse Kattapa Bulaate Kattapa Koi Lđkki Kattapa Bula Kattapa 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 Nibana Aparat Tha Apeni bhaai ko bolo na Jaye Apeni bhae Bhen ke paas Uska to Pyaar Phatte raita Iske Opar Arre Voh Nnei Ja Saakta Usse Peet Me Dard He Zindagi Par Dousar Ki Burai He no no non c'è un'unico C'è un po' che volto con la mia? Non ho con il po' che volto con la mia? Che volto con la mia? Mi dice che che mi ha detto quando si rara come in casa. Ma come a parlare? Si, il proprio tipo di diritto non parlarebbe quello che dice? L'acqua è il problema che ha detto che che ha detto che la mia vita prima tanto. Chia chia che la mia buona la mia vita. Chia chia che la mia buona la mia vita. Questa mi farò? Come ha detto la mia buona? C'è un problema di essere così in me? C'è un po' di buona il giorno? Sì, non lo so, non lo so. Ma non è una scossa, è un po' di l'acquera. C'è un po' di questo, tu puoi lasciare a casa, tu puoi dare un po' di casa. E' un po' di colore, se mi prende la cucina di boste. Sì, tu puoi dormire, tu mi dormi, tu mi dormi. Poi, questo è un po' la tua. Io non mi dormire, non mi dormire, non mi dormire? E' un po' di mamma, non mi dormire, E' un po' di ratti, si chiama la la. Mi parla parla parla, non mi dorme? Poi, mi parla di voi, adesso tu puoi dormire. in cui si sono andati con voi i miei con voi con i miei con i miei che la mia mamma anche così si è la mia mamma poi mi senti perché mi mamma e che la mia mamma oggi la mia mamma e che la mamma ora mi mamma non lo so ma non lo so mi sono seduto quando ho io e mi trovo sempre sempre a tu è che tu perché un giorno che ci 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 divore ti sono con hai Ciao a tutti i nostri amici. commentate, share e il video e il canale e il canale e il canale e il canale è molto calma mi è riuscita in questo video sbagliato, sbagliato, sbagliato non dimenticare e il canale e il canale e il canale e il canale anche se avete investito in il canale quindi andate a download appstocksgold e il canale e-gold e-gold quindi andate a download appstocksgold link is in description